At the time you choose, kick off your shoes, rest your weary eyes and catch up with the news, a favorite book will be, the perfect company, short and last. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva.